Ancora buon pomeriggio, ben trovati, muoversi in Toscana, in studio Mauro Ciuttini, veicolo segnalato in avaria sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo allo svincolo Empoli-Est in direzione di Firenze. Personale su strada per lavori in a1 tra Barberino di Mugello e Calenzano, Sesto Fiorentino in direzione di Firenze e sempre in direzione Firenze c'è anche un controllo di velocità tra Incisa-Reggello e Firenze-Sud. Passiamo alle statali sull'Aurelia e chiusa la corsia c'è un veicolo in avaria prima dell'incrocio della stazione di Gavorrano in direzione dell'incrocio Roma. Riduzione di carreggiata sulla Visti-Iberina, fondo stradale dissestato tra Madonnuccia, Poggiolino e Sansepolcro Nord. Infine ricordo che sulla 1 panoramica il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Rocco-Bilaccio verso Bologna resta chiuso fino al 18 giugno per lavori. È tutto, muoversi in Toscana con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Grazie a tutti.